Ciao a tutti! Oggi faremo una crostata con crema al limone. Alla fine del video vi daremo il link per la ricetta della pasta frolla. Abbiamo lavorato la pasta frolla per un paio di minuti. Adesso la stendiamo con il matarello. Adesso andiamo a mettere la pasta frolla in uno stampo da 25 cm, ingurrato e infarinato. Ora bucorelliamo il fondo della nostra teglia con una forchetta. Ora che la nostra pasta è pronta, la inforniamo in forno statico a 180 gradi per 10 minuti. Adesso prepariamo la nostra crema con 6 uova. 300 g di zucchero La scorza di 2 limoni grattugiati o 4 limoni piccoli Il succo di un limone grande o 2 piccoli Aggiungiamo anche 150 g di burro fuso Mescoliamo tutto finché diventerà un po' semogeneo Portiamo il composto sulla pasta frolla Inforniamo di nuovo per 30 minuti Se il video vi è piaciuto cliccate in mi piace Guardate la nostra playlist e iscrivetevi al canale ItalianCakes Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori